Nella stagione senza neve le presenze sulle piste da sci sono scese del 40% il dato arriva da Roberto Recastello, titolare dell'impianto della Remogna che riavvolge il nastro sulla nata anomala caratterizzata da poca neve e quindi da un caro dei numeri, nonostante l'innevamento artificiale e gli investimenti effettuati sugli impianti per renderli sempre più moderni ed efficaci siamo stati aperti con il massimo delle nostre possibilità a Natale abbiamo lavorato con 73 piste e anche a Pasqua ci saremo tranquillamente pronti ad accogliere turisti e visitatori, spiega De Castello rimarcando che grandi numeri sono arrivati nei momenti dell'anno in cui si sono riempite le piste di Ovindoli e Campo Felice chi arriva cerca neve fresca, quindi in alcune date abbiamo fatto il tutto esaurito complessivamente siamo scesi rispetto allo scorso anno almeno del 40% rincara l'imprenditore di Roccaraso nelle ultime settimane si è toccata la soglia delle 40.000 presenze nei weekend mentre nei giorni più rosei si è arrivati anche a 40.000 sugli impianti del convenzorio arimonia lavorano 137 persone tra addetti operatori non è stato facile trovare tutte queste risorse umane nel corso della stagione ho dovuto anche rimpiazzare alcune figure che si sono licenziate concludere il castello che ripone speranze nella Pasqua imbiancata